Musica Vediamo insieme quali sono le notizie principali dei quotidiani web regionali di oggi. Partiamo da Olbia.it. Barca a vela alla deriva interviene la guardia costiera. Nella tarda mattinata una coppia di nazionalità tedesca a bordo di una barca a vela di 12 metri a causa di un avaria al motore veniva spinta a terra verso la scogliera di Baia Saraceno nel comune di Palau. Versando in pericolo i due diportisti hanno provveduto a contattare la guardia costiera di La Maddalena sul canale d'emergenza chiedendo aiuto. La sala operativa della capettineria di Porto presso Guardia Vecchia ha ricevuto la segnalazione e ha provveduto ad inviare sul posto la propria motovedetta. Dopo una breve ricerca la barca è stata intercettata e raggiunta dagli uomini della guardia costiera che una volta accertate le buone condizioni dei salute e dei mail capitati hanno provveduto a metterla in sicurezza. Andiamo avanti con Sassari Notizie. Si parla di Università dell'Università di Sassari, terza in Italia tra i medi atenei. L'Università di Sassari si conferma dunque al terzo posto assoluto in Italia nella classifica Censis Repubblica tra gli atenei di medie dimensioni tra 10.000 e 20.000 iscritti con 14 università alle spalle. Rispetto all'anno scorso, quando peraltro Sassari gareggiava con altri 14 atenei e non con altri 16 come quest'anno, la media complessiva è salita da 95,4 a 95,8. La Nuova Sardegna si parla della discarica di Calancoi che ha inquinato la falda. Antimonio arsenico manganese è l'eredità che la vecchia discarica comunale chiusa dal 1997 ha lasciato al rio Bunnari. È stata aperta un'indagine, un inquinamento accertato con i lavori di messa in sicurezza d'emergenza del sito nella valle dei Ciclamini e con la caratterizzazione dei 100.000 metri quadrati su cui per 15 anni sono stati accumulati rifiuti urbani e speciali dei sassaresi. I risultati delle analisi sulle acque superficiali e sui sedimenti del rio Bunnari e dei campioni estratti da 11 pozzi privati scavati in un raggio di un chilometro dall'ex discarica costringono ora il comune ad approfondire le indagini sulla contaminazione dell'intera zona. Andiamo avanti con le cronache nuoresi. Si parla di cronaca rumeni sfruttati come braccianti agricoli in un ovile ritrovati dalla polizia in un sentiero di campagna denutriti e provati nel fisico. Sono stati ricoverati in ospedale e hanno raccontato la loro storia. Domenica scorsa gli agenti della sezione polizia stradale di Nuoro si sono imbattuti in tre cittadini rumeni che percorrevano a piedi una strada di penetrazione agraria superato il bivio per Macomer in direzione Nuoro. I tre sono apparsi subito malnutriti e fisicamente provati e pertanto accompagnati in ospedale per essere sottoposti alle prime cure mediche. Lì hanno raccontato la loro storia. Giunti in Sardegna da circa un mese hanno raccontato agli agenti di essere stati fin da subito costretti a lavorare come braccianti agricoli in condizioni disumane e precarie presso un ovile ubicato in agro di Tiana. Al momento sono in corso gli accertamenti volti a valutare l'attendibilità delle dichiarazioni nonché eventuali responsabilità. Ila Magazine si parla di sclerosi multipla e di nuove terapie. L'odierna disponibilità di innovativi principi è il segno che la scienza medica continua a interessarsi alle condizioni delle persone con questa malattia del sistema nervoso che in Sardegna sono più di 6.000 al fine di dare loro una qualità di vita uguale al resto della popolazione. In quest'ottica alcuni rimedi che vantano una consolidata esperienza d'uso sono stati riformulati soprattutto per rendere più semplice la loro assunzione. Villacidro.info Un'anziana vittima di uno scippo è stato arrestato un pregiudicato. Anziana signora vittima di un tentato scippo, il borseggiatore è stato incastrato dalle videocamere del comune. Verso le 7 di ieri mattina l'anziana di 79 anni si recava in chiesa quando Ignazio Collo, 53enne, pregiudicato di San Luri, si è avvicinato alla vittima con la sua bicicletta strapandole la borsa. La donna è caduta per terra procurandosi ferite guaribili in 10 giorni. L'uomo è stato individuato grazie al sistema di video sorveglianza del comune di San Luri. Lo scippatore si trova ora agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima che avverrà nella giornata di oggi presso il Tribunale di Cagliari. Ed ancora la provincia del Sulcis Iglesiente, Carbonia è il comune capoluogo della nuova provincia del Sud Sardegna, la cui circoscrizione territoriale corrisponde alla vecchia provincia di Cagliari, esclusi i comuni che costituiscono la città metropolitana di Cagliari. L'individuazione della città capoluogo nella nuova provincia è stata deliberata dall'amministratore straordinario Giorgio Sanna con i poteri del Consiglio provinciale in adesione agli indirizzi forniti dall'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica. E avviamoci alla conclusione con Cagliari Pad. Si parla di migranti, della decisione dell'Unione Europea di dire no agli hotspot in città. È troppo lontana dalla zona delle operazioni di ricerca e di soccorso a largo delle coste libiche. Inoltre, è altamente improbabile che venga scelta come porto sicuro da chi opera nell'ambito SAR. L'ipotesi di aprire un nuovo hotspot a Cagliari per accogliere e identificare i migranti non piace alla Commissione Europea. A farsi portavoce delle perplessità di Bruxelles è stato il capo della direzione immigrazione dell'esecutivo europeo. Nella lettera inviata qualche giorno fa al capo della polizia Franco Gabrielli e al prefetto Mario Morcone del Ministero dell'Interno. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata. Grazie per la visione!